salve a tutti ragazzi video misterioso persone sconvolte dalla vista di un vero e proprio ufo registrato da un gruppo di amici che volavano in aereo dal canada quindi sopra i cieli del canada hanno visto questo oggetto che sinceramente ragazzi sembra essere un ufo almeno apparentemente si vede un oggetto metallico che ha la sembianza di come noi conosciamo un ufo quindi la maggior parte discoidale quindi sinceramente eccolo lì che cammina bello bello tranquillamente nei cieli del canada vedete ragazzi fermiamo proviamo a zoomare un pochino ecco qua ragazzi guardate quindi sinceramente a meno per me sembra un ufo poi non saprei dirvi ragazzi non credo che sia un drone sinceramente non lo voglio pensare proprio ma secondo me non lo è perché un drone non sarebbe così come sempre ragazzi lasciate il vostro commento il vostro giudizio ditemi che cosa ne pensate secondo voi è un ufo un drone o altro come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero ciao a tutti e alla prossima news mistero veramente ragazzi quindi vediamo di capire che diavolo è ciao a tutti